Lo scioglimento dell'ente fiera è inevitabile ma spero vada di pari passo con una presa di responsabilità di tutta la città della sua manifestazione più importante. Con queste parole il presidente Paolo Nicchi annuncia l'imminente scioglimento dell'ente fiera che gestisce da anni la fiera antiquaria di Arezzo e che sarà sciolto prima della scadenza. Il motivo sta nel fatto che con il passaggio ad evento nazionale dovrà essere il comune a gestire direttamente la manifestazione. Un'imposizione legislativa che sarà preceduta da un piano di salvataggio e rilancio già varato dalla giunta comunale. Tra le novità una rete di collegamento tra i principali appuntamenti del genere dentro e fuori l'Italia. Il varo del pacchetto per gli espositori e per i turisti che contiene agevolazioni per parcheggi, ristoranti e alberghi. E ancora eventi collaterali e non e per ultimo l'accesso ai fondi europei e comunitari, una risorsa sempre poco sfruttata. A ottobre il via definitivo a tutti i cambiamenti che saranno ovviamente sottoposti anche al giudizio dei vari protagonisti di una delle più preziose risorse di questa città.